Allora dico, ricordiamoci sempre che questo è un quartiere che comunque ha avuto la prostituzione però non ha mai disturbato nessuno, hanno poveri in canna tutti quanti, quindi voglio dire si viene da storie di popolo, si viene da storie di comunismo, si viene da storia di aiuto. Questo è quello che mi piace di Via Roma e c'è gente, cioè io esco e incontro persone, per cui la cosa bella è che io in Via Roma conosco un sacco di persone. Ti ho detto, il mio è l'unico vino a Polide, perché questo territorio qui non è, io sono un vino a Polide, non ho terra. Questa terra qui ve l'ha portata degli amici da ogni parte d'Italia, anche da Napoli. Adesso invece è meno per nuove persone e queste nuove persone non c'è aggregazione, si prova a fare aggregazione, ci si prova, ma non c'è l'aggregazione che tentevo io di parlare piccola, che ci si metteva tutti insieme magari una sedia in un cutile di una e si chiacchieravano tutti insieme. Qui non succede. Qui non succedono? Grazie a tutti.